L'artista esistenzialista buonasera a tutti stasera o quantomeno stanotte, chiaramente il suo video vi vedrete domani perché sono anche abbastanza stanco e complicato scaricarlo e quant'altro, quindi lo vedrete, ribadisco domani, una poesia che è molto toccante, molto introspettiva, fa riflettere non poco di Pablo Neruda, lentamente muore, lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marcia non rischia e cambia colore dei propri vestiti, chi non parla a chi non conosce muore lentamente chi evita una passione e chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle i, piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti, lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un sogno che non si permette almeno una volta nella vita di sfuggire ai consigli sensati, lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova la grazia in se stessa, muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non lascia andare, chi passa i giorni lentamente a lamentarsi nella propria sfortuna o della pioggia incessante, lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa, che conduce, che conosce scusatemi, evitiamo la morte a piccole dosi, ricordandoci sempre che essere vivi richiede uno sforzo di gran lunga, maggiore del semplice fatto di respirare, soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità. Cosa vuole dire tutto ciò, mi scuso per l'errore, ah, tre quarti ma sono abbastanza stanco, nulla, muore, muore lentamente, recede, decade, si sbriciola, si frammenta emotivamente e quant'altro, chi è schiavo delle abitudini, chi rimane vincolato ai soliti percorsi, chi fa sempre le stesse strade e fa sempre le stesse cose, chi è statico, chi non rischia, chi non cambia la marcia in velocità, chi è abituato sempre a frenare, chi non accelera mai, chi non cambia colore, si vede sempre in bianco e nero, è monotematico, è monocromatico, sempre gli stessi argomenti, sempre le stesse idee, chi non rischia un bel niente, chi non accetta di buon grado, predilige, è più giusto dire, predilige un'emozione, chi non si vive le emozioni, chi rimane l'impassibile, ok, però sto rischiando, ho capito, ma qui si muore, signori miei, quindi se non rischiamo, i vecchi antichi dicevano, chi non risica non rosica per dirne uno, e tutti quelli che rimangono avvinghiati dal solito sbadiglio, è monotematico, è sempre lo stesso, perché è statico, tende all'ozio, alla noia, ma se riesci a cambiare quello sbadiglio con un sorriso, con qualcosa di bello, potrebbe essere un bacio, un abbraccio, un idem, è un qualcosa che fa battere il cuore, da dei pulpiti di ebreosità, di gioia, di gradevolezza, di piacevolezza, e anche un sorriso davanti a un errore, non essere troppo seriosi, e quindi e batare i propri sentimenti, è ciò che si prova veramente, senza fingere mai, lentamente muore chi non capolge un tavolo, chi in corso d'opera non fa una cavolata per certi versi, no? Chi sul lavoro non comunica, non scherza, non sorride, chiaramente, pian piano diventa tutto più pesante. Questa è bella, è molto provocatoria, a me è anche molto incisivo, chi non rischia la certezza e l'incertezza. Signore, tutto ciò che è la certezza, quello che viviamo, viviamo giorno per giorno, la quotidianità di sempre, però poi ci vincola dei percorsi predefiniti, non ci permette, non permette alle nostre cellule, i nostri assoni, le nostre cellule cerebrali di respirare nuove emozioni, quindi da quel punto di vista chiaramente non riesce a raggiungere un sogno, inseguire un sogno, non riesci a essere te stesso, non riesci a fuggire consigli sensati, cioè essere sempre raziocinante, mentre raziocinante e quindi lentamente si muore. Se non viaggia, non ascolta i musiche, se non studi, se non leggi, se non compri libri, muori, perché non nutri cervello, anima e devi avere autostima, devi avere la grazia di te stesso, devi volerti bene, altrimenti rischi di morire lentamente. Se distruggi l'amor proprio, il proprio amore, l'amore per se stessi, chiaramente da questo punto di vista, anche in questo caso c'è un percorso di vita molto, molto breve, che ha infasito la pioggia incestante, la pioggia è bellissima, perché la pioggia è tremendamente introspettiva, non so quante poesie ho scritto sotto la pioggia, magari chiaramente oggi rischi di avere un'artrosi polidistrettuale in più zone, qualche dolore in più, però signore che sensazioni, che emozioni non si possono spiegare, e lentamente muore, muore, decade molto lentamente chi lascia stare, lascia da parte, mette da parte un progetto, un progetto di vita, un progetto lavorativo, fate voi, senza iniziarlo, quindi perché non ci crede pienamente, quindi chi non ha con se stesso la certezza dei propri mezzi, quindi crederci sempre e comunque, chi non fa domande, oppure non risponde anche agli argomenti che conosce, insegna agli altri, perché anche quello è un processo di crescita e di miglioramento, evitiamo la morte a piccole dose, anche questo è molto molto bello, è come se noi cercassimo di scacciare la morte, di semplificarla, di ridurla, di mandarla via, di non ascoltarla, non vivendo, però facciamo il gioco della morte a quel punto di vista, perché prima o poi comunque arriverà e dobbiamo capire cosa abbiamo seminato, raccolto e quant'altro. Essere vivi, essere vivi richiede uno sforzo grande, enorme, perché devi combattere ogni giorno contro le avversità della vita, quindi da questo punto di vista anche il respiro, un respiro lento cadenzato e quant'altro richiede un impegno, perché il pomone pompa a mille anche durante una corsetta e quindi da questo punto di vista chiaramente non è facile. Quando c'è una partenza ardente, ecco, gioco forza, quindi un qualche cosa di tremendamente voglioso, gaudioso e quant'altro, quando sei spronato a fare meglio e comunque, per esempio quando sei innamorato, puoi fare ancora di più, porterà al giugno di tanti obiettivi della vita e certamente la felicità assoluta, a me se non ho concesso, esiste la felicità, solo su questo un po' non mi trovo, penso che siano degli attimi molto molto sottili, molto piccoli, qualche spazio cadenzato, uno spazio di pochi secondi e lì probabilmente in quegli spazi era chiusa la felicità, ecco perché signori, siate sempre voi stessi, piccola postilla, cercate di non scendere a compromessi, starete male, rimanete come siete, non cambiate mai e quindi io vi dico che da questo punto di vista la crescita personale è anche, diciamo, deputata agli errori fatti, chiaramente noi dobbiamo essere spronati a migliorare e a crescere, ma se rimaniamo fermi non c'è crescita, non c'è miglioramento, ecco qui lentamente muro di Paolo Bloneruda, parla anche dello statismo, della staticità, il rimanere sui propri piedi, scusate, fermo, perché si ha paura di sbagliare, lavoro ci blocca, ci ferma, però da questo punto di vista dobbiamo cercare di essere più spronati, a migliorarci, a crescere e anche a sbagliare, perché dietro un errore c'è una crescita repentina e soltanto così signori, Paolo Bloneruda, parla del raggiungimento della splendida felicità, signori, se volete la felicità dovete rischiare, l'artista esistenzialista, buona nottata a tutti.